Siamo tutti i cittadini! Lo diciamo forte e chiaro! Questa città si basa su principi di solidarietà, si basa sui valori della resistenza! Siamo qui a testimoniare una piazza antifascista, antirazzista, anti-amacova e antisessista! Perché oggi, oltre a noi che siamo qui in piazza per dire no ai fascismi, c'è anche il popolo greco che è chiamato a dire un grande no! Un grande no contro l'autoritarismo, contro l'austerità, un grande no contro un'idea di Europa che non è democratica, che non è solidale e che non pensa ai bisogni delle persone! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! A dire le fangie! A dire le fangie! Fascisti! A dire le fangie! A dire le fangie!